Continuo incestante il lavoro della Guardia di Finanza di Partenico, che dopo l'operazione di pochi giorni fa, il vino fatto con l'acqua e zucchero, sequestrava la cantina Simonette a Monreale con oltre 3.307.000 litri, dei quali non è stato possibile tracciarne l'origine, per un valore di 5.160.000 euro, e con perquisizione e sequesti su tutto il territorio nazionale per bloccare le partite di prodotto adulterato, a stessa un altro duro colpo al patrimonio dell'imprenditore vitipinicolo partenicese Ottavio Loccricchio, 58 anni, con precedente per mafia, arrestato nell'ambito dell'operazione nel 2004, terra bruciata, era risultato alle dirette dipendenze del capo mafia di Partenico, Leonardo Vitale, e inoltre dalle indagini è emerso che Loccricchio sarebbe stato incaricato dal clan della riscossione del pizzo, prometto delle istorsioni, quindi risultava nella disponibilità di ingenti sombi di denaro di natura palesemente illecito. Sempre nel 2004 gli uomini del Gigo della Guardia di Finanza gli hanno confiscato un ipodromo incontrato a Bosco Faltoneria, il provvedimento era stato firmato dal giudice Pier Giorgio Morosini. Nel 2013 viene sottoposto a sequestro la società San Domenicovini, che si occupa di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinigoni. Dopo tre anni Loccricchio, difeso dall'avvocato penalista Raffaele Bonsignore, e come un coadiuvato dal periodo di parte il commercialista alcamese Adriano Cataldo, ha dimostrato l'estranietà alle accuse. Per i beni del commerciante è scattato il dissequestro con un decreto del collegio giudicante guidato dal nuovo presidente allora dell'ufficio misure di prevenzione Giacomo Montalbano, che nel prattempo era subentrato alla oggi condannata a otto anni e mezzo in primo grado Silvana Saguto, coinvolta sulla mala gestione dell'ufficio. Nel 2021 un nuovo arresto nell'operazione denominata Accordio, che porta in carcere 85 persone, ma dopo pochi giorni viene revocato. Il giudice per le indagini preliminari Lirio Conti ha disposto all'immediata scarcerazione senza alcuna altra misura cautelare dopo aver valutato le dichiarazioni rese da Loccricchio nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Secondo il giudice vi sono spiegazioni alternative alle condotte ritenute illecite. In questi giorni gli uomini della Guardia di Finanza di Partenico guidati dal Capitano Riccardo, Andrea, Valentino, tornano alla carica con il sequestro di tutti i beni nella disponibilità degli imprenditori e con varie accuse. Le operazioni sono ancora in corso, sapremo la quantificazione e tanto altro nei prossimi giorni.